I giovani sono la benzina per andare avanti e per quanto mi riguarda sono arrivato qua con la mia bicicletta nella cornice splendida di Varese e con questa folla cercherò di diffondere la mia droga, ovvero l'adrenalina, lo sport la voglia di occupare il proprio tempo nella migliore maniera, curando l'aspetto fisico, facendo attività studiando, in questo caso i ragazzi al sabato sono qui presenti in prima linea, dunque grazie per essere venuti e poi niente, ci sono una serie di colleghi, perché lo considero colleghi, sono le forze dell'ordine, i magistrati a modo mio cerco di dare il mio piccolo contributo ricordando due grandi, Falcone e Borsellino e di più purrà, viva questa manifestazione e l'importanza della legalità La legalità? Esatto, io sono legale all'80% perché mi piace andare sui cornicioni e sui ponti e l'80% sono legale, no, per chi scherzi la legalità è una forma di educazione che manderà avanti l'umanità l'illegalità ti manda o al cimitero o di scappare come un topo o mercire in galera queste sono le tre realtà, grazie Grazie Grazie